Dopo la biografia del noto cantoautore Rossora Mazzotti, dopo il libro dal titolo Io che amo solo te, arriva la nuova fatica del giornalista e conduttore radiofonico Luca Bianchini, La cena di Natale. Un volume strettamente collegato al precedente Io che amo solo te con cui condivide personaggi e sfumature della trama. Presentazione a Cosenza nel corso di un incontro partecipato alla libreria Ubik. È una cena di Natale dove due consuocere, si chiamano Ninella e Matilde, amano lo stesso uomo, che è Don Mimì che è sposato solo a una delle due. Quindi sarà una cena con 11 persone, 11 parenti presenti davanti a queste due donne che si combattono a colpi di piatti tutti cucinati col bimbi. Spieghiamelo invece il legame che c'è con l'altro volume Io che amo solo te. I personaggi sono gli stessi ma sono due storie che vivono di vita propria, però si può leggere la cena di Natale anche senza aver letto Io che amo solo te come conoscere delle persone in vacanza oppure conoscerle da una vita, le puoi conoscere anche in poco tempo. Per gli italiani conoscersi a cena credo sia una delle cose belle e più facili da fare. Amiamo così tanto stare a tavola. Oltre a questi due scritti che sono legati l'uno con l'altro c'è anche un altro che racconta la vita di Eros Ramazzotti, la biografia. Perché proprio la biografia di Eros? Eros Ramazzotti perché me l'ha chiesto lui tanto tempo fa. Non voleva un giornalista, voleva uno scrittore per stargli vicino. Io ero veramente incosciente all'epoca, molto più di quanto lo sia ora e ho accettato e lui mi ha detto ok allora ci vediamo a Los Angeles. E quindi il primo appuntamento con Eros è stato a Los Angeles. Io arrivo lì da Torino, da Nichelino anzi. Arrivo lì e è iniziata questa grande avventura che poi mi ha portato un sacco di cose belle. Ho capito che è bello non essere famosi però ecco questo mi è servito soprattutto. Un'ultima domanda. Quanto c'è dello scrittore, del giornalista, del conduttore radiofonico in quello che scrivo? C'è tutto perché i libri sono la dimensione in cui sono più vero perché sono da solo con me e quindi non riesco a mentire quasi mai. E quindi credo che ci sia un po' tutto. Chi mi conosce lo sa e lo vede. Chi non mi conosce è bello che mi conosca anche attraverso quello che racconto. Chi non mi conosce.